Tutti anni, allenata da Santino Coppa, il grande Santino Coppa, artefice del miracolo. Non sembrava così, Beretti ora ha servito, mamma mia, che stoppone! Beretti accetta il cambio con Rodriguez, ora, Dio medio accoppiato con Donadio. Gli esce, trova l'imbalzo Riccardo Antonelli con la palla, recuperata dagli ospiti, Rodriguez. E l'attacco per gli ospiti, Donadio. Hola Rodriguez, gonfile accoppiato con Panopio, se la prende lui la responsabilità. Errore, Panopio ha rimbalzo, deve fare il palo di scena però, non lo fa il palo, Rodriguez fa un segno incredibile. Deve chiamare un altro time out, sono enorme, va fuori il tiro di Diomele, finisce 55 a 60. Grazie a tutti.